Ciao a tutte ragazze, allora questa qui è una nuova review, molto diciamo comunque non corta, perché tutte le volte che è corta vado a fare duemila minuti video, però è una review di poche cose diciamo. Allora, scusate in primo luogo sono tutta struccata, sono in casa e tutto il resto, però vabbè, oramai tanto mi conoscete e sono così, quindi va bene. Allora, che cos'è questa review? Riguarda dei o barra un prodotto EIECO, AICO, ho capito che si dice così questo sito, e praticamente sono i nuovi smalti, allora ne ho comprati sei, che dovrebbero essere tutti a regola credo, e costano 4 euro l'uno. Allora, i colori sono questi, ora poi ve li farò vedere più nel dettaglio, comunque ci tenevo a farveli vedere. Allora, allora, come, diciamo subito, 4 euro ognuno, come quantità di prodotto sono 8,5 millilitri, mentre quelli della KIKO sono 11 millilitri. Quindi, questa qui è la differenza tra i due smalti, eccoli qua, vedete, è un pochino meno e costa un pochino di più rispetto allo smalto della KIKO. E hanno dei colori molto carini, allora, diciamo, questo qui, che è il color nude. Ah, sparaflesciata! Non so, insomma, tanto poi dopo ci avete le foto, comunque, questo qui è il color nude, si chiama nude polish. Poi, questo invece che è un nero glitterato, si chiama Cosmic Polish, è un nero con i glitter. Poi, il lilla, si chiama Liliac Polish. Poi, semmai vi metto i fumettini di ogni nome, perché se no, magari, detto così, non capite quel che è. Poi, invece, ci sono questi, che sono Purple Polish. Indigo Polish, che è questo blu scuro, 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 glitterato. e Vintage Polish, che è questo qui, verde. Allora, adesso vi faccio vedere l'applicazione. Aiuto, ma sono sparata! Ok, vi faccio vedere l'applicazione. Allora, in primo luogo, scusate come sono conciate tutte le mie mani, ma è un periodo un po' così, insomma, che me le ammazzo. Allora, iniziamo con questo smalto, che è l'Indigo Polish. Vedete il colore? Qui sembra molto più chiaro rispetto a quello che è. In realtà è in blu molto scuro. E niente, questo si chiama, appunto, Indigo Polish. Allora, io ho già applicato la base sopra tutte le mie unghie. Uno smalto molto, molto liquido. Quello sicuramente sì. Allora, il mio consiglio è di iniziare con una base, con uno strato molto, molto sottile, mi raccomando. Non troppo, perché essendo tanto liquido, non viene bene, altrimenti. Allora, iniziamo. Questo è il risultato dopo una sola passata. Come vedete, io non l'ho dato proprio benissimo, però copre abbastanza con una sola passata. Comunque, con due passate, dopo vedrete il risultato. Passiamo al Purple Polish, che a dire la verità è quello che mi ha stupito più di tutti, perché è un viola matte, praticamente, è satinato. Non è lucido come tutti gli altri smalti che ho sempre avuto nella mia vita. Ed è molto, molto carino. Ora ve lo faccio vedere. Perdonate il fatto che l'ho dato malissimo, adesso se vedrete, vedrete che seccandosi diventerà opaco e non riparrà lucido come questo altro. Poi, il Nude Polish è un colore molto, molto carino, soprattutto per quando si vuole un'unghia che non dia troppo nell'occhio. Guardate che carino. Non so se vedete, comunque tanto metto le foto così almeno si va sul tranquillo. Ecco, magari adesso vedete un pochino meglio. Non so se vedete, si sta asciugando e sta diventando satinato. Il Cosmic Polish è questo nero glitterato, veramente incredibile, che non me lo sarei mai aspettato così. Scusate che è sporca l'unghia, ma ho appena sbagliato a metterlo, mi è tenuto malissimo perché me è a colpa. Quindi ricominciamo. E questo qui è dopo una prima mano. Allora, sicuramente il Cosmic Polish non copre dopo la prima mano. È un colore molto bruttino, direi. Sì, veramente bruttarello, ecco. Quindi dovrete aspettare per vedere come viene la seconda mano. Invece vi faccio vedere il Pollui, cioè con il Lilac Polish. Il Lilac Polish. Ecco qua. Non so se vedete, ma... Comunque... La copertura non è male. Ed ecco qua. Ora ovviamente il viola deve ancora seccare. Io l'ho dato malissimo, vabbè, lasciamo perdere. Vedete i colori. Adesso vi faccio vedere l'ultimo. E cioè il Vintage Polish, che come vedete è uno di quelli che copre di meno. Questo è la boccioettina. Copre di meno alla prima passata. Adesso vi faccio vedere tutte le unghie. Con due passate di smalto, per farvi vedere l'effetto finale, quindi, degli smalti. Allora, adesso vedete le unghie in luce naturale. Sono tutte passate, due passate, perché come coprenza, come gli smalti non sono proprio il massimo. Tranne questa, che è il Borgogna, e questa che è il color, diciamo, pesca, sono abbastanza coprenti anche con una sola passata. Mentre gli altri sono abbastanza trasparenti. Allora, iniziamo da questo, che è un blu meraviglioso, scuro, brillantinato. Poi il Borgogna, che è uno dei pochissimi smalti, se non l'unico, che ho mai trovato nella mia vita, che è matte. Vedete, è molto satinato. Non è lucido. Poi, vi è questo verdino qua, che ho dato male, sinceramente. Infatti, vedete, non è molto... Però come colore è molto, molto carino, tant'è che non l'ho mai visto, un colore del genere. Poi il pesca, che è molto neutro, ma è molto carino. Nel complesso della mano fa un bellissimo effetto. E poi questo meraviglioso nero glitterato, vedete? È stupendo, veramente. Lasciate perdere le mie pellicine schifose, ma... Guardate che bello che è questo nero. È stupendo, davvero. Come anche questo blu, che è molto, molto glitterato e è bellissimo. Sono tutti belli, secondo me sono veramente dei bei smalti, veramente. E per ultimo c'è questo lilla, che è uno dei più belli, secondo me, di smalti. Che è veramente stupendo. È un lilla di una tonalità veramente, veramente bella. Copre anche con una passata, questa è con due. Però è veramente, veramente bello, bello, bello. Quindi, li capisoliamo. Eccoli qua. Ed ecco il lilla. Ecco. Ok ragazzi, quindi, a questo punto che avete visto tutti gli smalti... Qui c'è Minou con me. Mi ciao. Ciao. Saluta le amiche. Ciao. Ciao. Va bene. Dicevo, dopo che avete visto adesso tutti gli smalti, vi parlo un pochino di cosa ne penso io. Ecco. Allora, in questo momento ho quello rosa sulle mani, che è il più neutro di tutti e a me piace tantissimo, perché in questo momento non ho delle unghie proprio bellissime. Quindi, uno smalto che non ci attivi tanto l'attenzione è la cosa migliore. Allora, diciamo che come durata sono veramente, veramente buoni e sono nettamente superiori di quelli della Elf. Perché, come ho già detto, quelli della Elf mi hanno deluso molto per quanto riguarda la durata, perché senza il top coat veramente non durano assolutamente niente. Mentre invece questi smalti, senza il top coat, durano abbastanza, quindi abbastanza davvero. E poi hanno dei colori veramente carini, cioè secondo me non sono dei colori proprio usuali. Quelli ovviamente più che attirano l'attenzione sono ovviamente questo nero, quindi il Cosmic Polish. E forse magari quello blu scuro, ma assolutamente anche il Purple Polish, che ad esempio è uno dei pochissimi smalti che ho mai visto in tutta la mia vita che sono satinati. Quindi non sono lucidi e rendono una finitura diversa proprio dell'unghia. Quindi è molto, molto carino. E quindi, niente ragazzi, io sono rimasta veramente, veramente, minu, ecco. Sono rimasta, facciamo una cosa. E niente, io sono rimasta veramente, veramente soddisfatta di questi smalti. Insomma, siamo rimaste veramente, veramente soddisfatte. E ripeto, 4 euro l'uno non mi sembra un prezzo successivo per avere degli smalti buoni. L'unica cosa è che bisogna stare molto attenti quando si danno proprio questi smalti, perché hanno una finitura molto liquida. E quindi risulta difficile inizialmente darli. Ad esempio, io la prima volta ho detto, oddio, no è difficilissimo da dare. Invece dopo un paio di volte che si usano, come vedete il risultato è molto, molto carino, veramente. Quindi, niente, io e Minu vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Mi ciao! Ciao!